Bene, buonasera a tutti. Un attimo, segretario, perché ci sono prima un po' di cose da dire. Allora, siamo... Un attimo, signor Sindaco. Un momento, adesso facciamo tutto. Allora, siamo qui questa sera su... Un attimo, consigliere Nazari. Se io quello che devo fare, vuoi pazienza? Ok? Grazie. Siamo qui questa sera per un consiglio comunale straordinario in relazione ai servizi educativi dell'azio dell'Aquilone e poi, con il consenso di tutti i capigruppi, abbiamo anche inserito le pratiche finanziarie. Mi spiace aver convocato questo consiglio in questo momento così particolare, perché ci sono anche le elezioni regionali, abbiamo anche due candidati in questo consiglio, però mi sembrava giusto e opportuno, visto l'urgenza del deposito, arrivare a una discussione. Ora, non so questa sera come potremo fare, se si voterà un indirizzo, una mozione, oppure discuteremo solo... Ognuno giverà la sua e poi l'amministrazione giverà quello che sta facendo, il segretario poi su questo ci illuminerà dal punto di vista formale, su quelli che sono i passaggi formali e regolari. E quindi ho anche deciso di fare intervenire, per ridare un po' di pervenza di regolarità e di normalità all'attività amministrativa, il pubblico, dietro richieste dal consigliere Sismondini. Mi auguro che questa sera trascorra tranquilla e regolare. E poi anche il mio compleanno, quindi vorrei chiudere in maniera tranquilla questa serata. Ho sacrificato una serata che potevo fare diversamente, per l'attività amministrativa, perché comunque noi siamo tutti qui, non è che nessuno ci ha, come dire, puntato la pistola alla testa per candidarci, ma nel momento che siamo candidati e siamo stati eletti, bisogna anche assolvere il ruolo che ricopriamo. Bene, facciamo adesso l'appello. Scudino Gaetano, presente. Spinoza Andrea, presente. Palmiero Lora. Presente. Bevilacqua Marcello. Nelzeve Roberto. Giordano Ingo Massimo. Palmiero Giuseppe. Rea Maurizio. D'Andrea Cristina, assente giustificata. Isla di Bartolomeo. Assente giustificato. Assente giustificato, bene. Mauro Francesco. Sismondini Gabriele. Dioculano Enrico. Deleu Domenico. Leurti Federica. Deisebio Massimo. E Ballestra Alberto. Sono altri presenti gli assessori Bertolucci, vice sindaco, Ascheri, assessore Panetta e l'assessore di Olfo. Assente l'assessore di Villa, mi pare, giusto? Sì. Perfetto. Bene. Apriamo la discussione. Allora, noi siamo qui questa sera su richiesta di un Consiglio Comunale straordinario da parte di tutte le opposizioni in cui la richiesta delle opposizioni, ve la leggo, così il punto della serata è chiaro a tutti, richiesta di riconvocazione di Consiglio Comunale straordinaria e sensi dell'articolo 30.4, statuto comunale città di Ventimiglia, delibera Consiglio Comunale 9.4.19 e seguenti. I sottoscritti consiglieri, vista la petizione rivolta al Consiglio Comunale avendo l'oggetto adozione, provvedimenti per le mantenimenti della gestione comunale del nido Infanzia e l'Aquilone e perché la giunta comunale voglia revocare o annullare la rivoluzione numero 269 adottata in data 25 agosto 2020. Sottoscritta da 400 persone questa petizione è depositata presso il Comune in data 31.8.2020. Vista l'urgenza di procedere ad esaminare il contenuto della pregetta petizione, stante l'imminente apertura del servizio educativo per la prima infezza presso l'Aquilano, all'integrazione della precedente istanza formulata ex articolo 17 in data 31.8 chiedono che l'illustrissimo signor Presidente del Consiglio Comunale andrea Spinelli a convocare con urgenza l'essenza dell'articolo 30.4, Statuto Comunale identifica l'articolo 39 del decreto legislativo 267.2000, un Consiglio Comunale straordinariamente ad oggetto discussione sull'opportunità dell'esternalizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia del Nidio L'Aquilone. Conseguentemente espressione indirizzo dell'amministrazione per il mantenimento dei servizi educativi per la prima infanzia del Nidio L'Aquilone in capo al Comune. Distinti saluti consiglieri Enrico Dioculano, Massimo Rosebi, Domenico Delea, Alberto Balestra, Federica Leruzzi e Gabriele Sismondini. Sì, perfetto. Ora, poi il segretario ci dirà se questa, come dire, espressione indirizzo si può chiudere con una votazione o se rimane solo una discussione in cui ognuno dice le sue posizioni e poi vedremo da farsi. Naturalmente tutti possono intervenire come al solito, però prima di iniziare la discussione do la parola al segretario che ci illustra i passaggi formali su questo atto di indirizzo di cui discutiamo questa sera. Grazie. Buonasera a tutti. Faccio riferimento a quello che abbiamo già concordato nella conferenza dei capigruppo. Luci? Il segretario è qua. Un attimo. Pronti. Va bene. No. E' questo? Ah, è questo. Ok. Sì, buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Faccio riferimento a quello che abbiamo concordato nella conferenza dei capigruppo che si è vota l'altro giorno per fare il punto su quello che era il contenuto stasera della convocazione del Consiglio Comunale, richiesta da sei consiglieri comunali e che va tenuta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta. prima c'era stata una petizione rivolta al Consiglio Comunale dove si chiedeva al Consiglio Comunale l'adozione di provvedimenti per il mantenimento della gestione comunale del nido di infanzia dell'Aggulone e perché la Giunta Comunale voglia revocare o annullare la deliberazione 169 adottata in data 25.8.2020, oggetto del quale è praticamente che deve essere sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale e votato perché si vuole dare all'Aggiunta un atto di indirizzo se voglia revocare o annullare una decisione precedentemente adottata sulla gestione dell'asilo nido comunale. Abbiamo concordato nella conferenza dei capogruppo che le mozioni, le petizioni, le discussioni su questo non sarebbero state fatte in questa seduta del Consiglio Comunale perché il giorno dopo i sei consiglieri di minoranza hanno presentato a integrazione un documento nel quale si richiede la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario ad oggetto discussione sull'opportunità di esternalizzare i servizi educativi per la prima infanzia del nido di infanzia dell'Aggulone, espressione di indirizzo all'amministrazione per il mantenimento dei servizi educativi per la prima infanzia del nido di infanzia dell'Aggulone in Cavalcomune. Chiaramente è stato concordato che si svolgesse questo Consiglio Comunale dando a tutti la possibilità di intervenire con una discussione ampia e l'abbiamo impostata questa discussione non con la conclusione della stessa attraverso l'espressione di un voto per il quale eventualmente necessariamente avremmo dovuto chiedere un parere agli uffici per verificare nel caso in cui la delibera dell'Aggiunta Comunale fosse stata oggetto di richiesta di modifica di revoco di annullamento con una mozione approvata, ancorché non assolutamente virgolante per l'organo di governo, avrebbe dovuto essere supportata da un parere da un istruttore dell'ufficio. Quindi la proposta di deliberazione stasera a progetto propone al Consiglio Comunale l'esame della richiesta di convocazione di quella nota protocollo 33.210.2020 che si allega alla presente che è quella che abbiamo scritto. Quindi l'abbiamo impostata come ampia discussione del Consiglio su quello che è l'assetto che è stato dato adesso alla gestione del Nido da Quilone che necessariamente non si deve concludere una discussione del Consiglio con una deliberazione perché gli argomenti posti all'ordine del Consiglio non necessariamente si devono concludere con una deliberazione e per concludersi con una deliberazione a meno che non sia un atto di indirizzo preciso e specifico argomentato hanno necessario riacquisire il parere degli uffici per il giusto procedimento. Quindi così abbiamo impostato la questione questa sera. Grazie. Quindi in conclusione facciamo una discussione ma non si arriva a una votazione. Certamente. Una discussione generale. E ognuno dice, argomenta e dice. Vabbè facciamo un giro di interventi e poi vediamo. Allora, Consiglio Deleuzzi. Prego. Un attimo, un attimo. Prego. Volevo solo dire che non funziona lo streaming. L'abbiamo già visto, gli tecnici sono al lavoro. Ah, posso. Bene. Consiglio Deleu. Buonasera. Grazie. Prego. Si sente? Si. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Prima di iniziare vorrei dare un caloroso saluto anche al pubblico in quanto da questa sera riprende a seguire ovviamente con le limitazioni giustificate dall'emergenza che stiamo attraversando. Ma comunque è già importante, è un bel segno, è una cosa molto importante che tutti noi sicuramente apprendiamo con soddisfazione. E mi auguro anche che stasera sentendo il telegiornale, ho sentito dal pubblico della notizia del telegiornale che è una nostra maestra, una nostra responsabile nelle scuole risolta positiva. Quindi io mi auguro che al più presto possa rientrare anche questa cosa qua e via, lavorare tutti insieme nella speranza di allontanarci il più possibile. Piena solidarietà a questa nostra concittadina che lavora con i nostri piccoli. Io incomincio con l'illustrazione della richiesta che abbiamo fatto del Consiglio Comunale, signor Presidente. Presidente, ovviamente mi riservo anche eventualmente poi nell'ambito della discussione di poter intervenire e dire eventualmente qualche mia riflessione se riterrò opportuno. Ma intanto volevo specificare un motivo, fermo un attimo. Non è che qua ci si riserva, qui ogni consigliere ha dieci minuti di tempo per esporre tutto quello che ha da dire. Dopodiché voi, la maggioranza, tutti quanti, poi si interviene eventualmente per fatto personale. E poi la chiudiamo perché se no qui stiamo finendo. Assolutamente se no. Sono racconto con lei, volevo specificare che una volta illustrata la pratica poi si apre la discussione e quindi lei sicuramente da Presidente saprà. Grazie. La pregherei di aggiustare un attimo il tiro. Facciamo un po' di precisazioni prima di partire. La pregherei di aggiustare un attimo il tiro. Ha detto due volte se il caso di votare o meno, e adesso ci ritornerò sopra, l'atto di indirizzo dell'amministrazione comunale, comunque lei ha detto che la cosa più importante è quella che ognuno dice la sua, che ognuno dice la sua. Qui non è che si viene ognuno dice la sua. Qui si viene a parlare dei problemi della città, si sostengono le problematiche della città, tutte le cose che si trattano. E' stato chiaro che la procedura? Scusa, non mi interrompo Presidente, perché se no scusi. Ecco, è un'altra precisazione che volevo fare al Dottor Germanotta. Nella specificazione delle richieste che abbiamo fatto del Consiglio Comunale, che le ritengo precise, le ritengo assolutamente aderenti a quelle che sono le regole dello Statuto e del nostro regolamento, ma ancora più fondamentale il fatto di specificare che durante la conferenza dei capigruppo non abbiamo stabilito alcune cose e il giorno dopo le minoranze hanno presentato la richiesta. No, perché la conferenza dei capigruppo si è celebrata il 10, la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sarà un lapsus sicuramente, però a me mi toccava l'obbligo a chiarire questa cosa, perché la richiesta del Consiglio Comunale è stata protocollata il giorno 1. Siamo qui per questa richiesta... Il primo settembre. Il primo settembre. Quindi siamo qui per questa emozione che io devo anche, veramente in modo convinto, ringraziare il Presidente che ha accolto quelle che erano le nostre istanze al momento in cui abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale e ha ritenuto importante e indispensabile riunire questa assise. Quindi io parto da questo posto che dico che quando si discute in modo pacato, serenamente, si può anche giungere a delle conclusioni. Questa è un'importante discussione che abbiamo portato in Consiglio Comunale. Perché l'abbiamo portato in Consiglio Comunale? Ma guardi che prima ancora che si muovesse la minoranza a chiedere al Consiglio Comunale c'era già stata una mezza, come dire, alzata di scudi da parte di numerosi cittadini. Noi siamo stati spinti, abbiamo ritenuto che era il caso, ovvio, alla luce di quello che succedeva in città, a contribuire alla raccolta delle firme. Sono state raccolte circa 400 firme nel giro di due giorni, non cosa da poco. Quindi il fatto dell'essere qua e confrontarci senza soltanto, ognuno dice proprio la sua, lo dobbiamo fare con vera presa di cognizione, con vera convinzione, che stiamo parlando di problemi che riguardano i cittadini e che i cittadini stessi hanno sollevato, nei modi che a loro sono più opportuni, ma comunque tanti e numerosi. Ci sono alcuni aspetti, sono state dette delle cose, è il caso di chiarirle. Questa non è una richiesta di Consiglio Comunale per speculare sui bambini. Chi ha fatto la richiesta di Consiglio Comunale, il consigliere di minoranza, si dica scusa, continua a non funzionare lo streaming, signor Presidente, se posso segnalare. No, il tecnico mi ha detto che è tutto a posto. Se posso segnalare, grazie. Quindi dicevo, sono state parole grosse sugli organi di stampa, sugli online, dappertutto, che si specula sui bambini, si strumentalizzano i bambini. Assolutamente no. Ma assolutamente no, io direi, di tutti quelli colleghi di maggioranza, i rappresentanti dell'amministrazione che stasera sono qui in questa sala e che eventualmente avessero detto delle cose, alzino la mano e chiedono scusa. E chiedono scusa perché il risultato che ci ha portato alla richiesta del Consiglio Comunale è circolato su una pista, che si chiamava una raccolta di firme e una cosa reale. Era la voglia dell'amministrazione di esternalizzare un servizio. Attenzione, fino a qui, come dire, non fosse l'aquilone, non fossero quelle tate, non fossero quei bambini, non fosse questo momento, si potrebbe anche dire, però ogni cosa può contestuale al tempo che attraversa. E la questione di privatizzare, di esternalizzare il servizio, cosa che tra l'altro nel Comune di Ventimiglia è già avvenuto, per l'amor di Dio, poteva essere un qualche cosa che ha tratto l'attenzione da parte dei nostri concittadini. E quindi, dicevo che non si è speculato sulla testa dei bambini, assolutamente no, ma si è lavorato dietro le date e dietro i materiali che avete prodotto voi, consigliere di maggioranza, voi, giunta. Perché se io dico che il 25 di agosto, senza che nessuno sapesse nulla in questa città, è stato deciso dalla giunta con una delibera di esternalizzare i servizi dell'aquilone, non penso di dire una fesseria. E' così. Se poi il 31 di agosto è stata fatta una determina dirigenziale da parte della dirigente, datata 31 agosto, e poi il giorno 1, il giorno susseguente, abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale, mi volete dire dove sono le speculazioni? Mi volete dire chi sono quei cecchini che erano nascosti dietro i muri e sparavano al passaggio di qualunque novità? Ma le date, le avete date voi o no? Il tempo lo avete stabilito voi o no? Lo avete stabilito voi? E allora ancora un'altra cosa. Io ho detto il 25 di agosto non sapevo nulla, né io né i miei colleghi di minoranza, ma credo nessuno in città. Vi sembra giusto il fatto di come avete proceduto? Vi sembra giusto che se si sente dire che da giugno, da giugno, da giugno, si parlava della esternalizzazione o comunque di questo obiettivo, e non avete reso i dotti, non solo la maggioranza. A questo punto io mi augurerei che la maggioranza, perché giovane e perché forse ancora da rodare, magari non lo sapessero niente. Se lo sanno anche i consiglieri di minoranza, scusatemi, tre volte, ma tre volte colpevoli, perché non avreste mai dovuto, mai dovuto, mai e dico mai, permettere alla Giunta di lavorare, come diceva qualcuno per televisione a nottetempo, nottetempo, qualcuno è una battuta che abbiamo sentito per televisione tempo fa, mi piace riprenderla così, non si lavora nottetempo nelle pubbliche amministrazioni. Quindi questa non è stata una cosa architettata dalla minoranza. Sembriamo ancora un minuto, consigliere. Con la spinta della firma richiesta dei cittadini, io vedo l'assessore, le voglio dire una cosa alla fine, perché poi quando si parla in consiglio comunale non si può parlare sempre puntando il muro. Ci sono delle firme, c'è il sindaco, c'è una giunta, c'è un assessore che lavora in questa cosa. Se lei ha rappresentato i consiglieri comunali che non volevano nemmeno parlare nel verbale della conferenza dei capigruppo, a un certo punto il consigliere Bello dell'Acqua ritiene che il consiglio comunale non si debba, non che non si faccia il 21 settembre, che proprio non si debba fare, non si debba celebrare. Il consigliere Bello dell'Acqua ritiene che il consiglio comunale all'unico del centro di internazione dell'amministrazione comunale attraverso l'assessore di Olfo non è necessario farlo. Comunque mi parla l'unico giugno disponibile, semmai se dovesse fare... Ma adesso non mi interessa quanta tempo. Consigliere deve concludere. Quando deve sostenere l'assessore, quindi assessore, concludo. In questa pratica poi ci saranno altri poteri per ritornare su questa questione. Assolutamente non lo vede, la sua capacità personale, la sua capacità professionale ci mancherebbe. Assolutamente no, assolutamente non è il mio pensiero. Però lei come assessore ha dimostrato molti, molti limiti. non a condurre questa situazione, ma quantomeno starci dentro con il peso e con la determinazione di un assessore e con l'esperienza che io conosco come la capacità che io conosco. Grazie consigliere. Bene. Allora, chiedo il parere consigliere Siongondini. Anche lei 10 minuti. Prego. Mi farebbe tanto piacere, buonasera a tutti, che funzionasse lo streaming però. È un sabotaggio stasera. Siongondini. Eh? Eh beh, può anche essere. I tecnici sono al lavoro. Funziona ma in ritardo? Ok, bene. Beh, però anche lei non è che può fare tutte le volte. Abbiamo messo il pubblico in sala e compensa un po' lo studio. Ma scusi, ma se c'è questa possibilità. C'è tanta gente che magari non è venuta stasera e ha voluto rimanere a casa, poi guardarlo nel letto. Vabbè, comunque, l'importante è che funzioni. Allora, io vorrei iniziare dicendo una cosa, anche il pubblico era qua presente, lo streaming non ci ha visto, meno male, abbiamo fatto un sacco di cinema, mezz'ora di cinema prima di iniziare il Consiglio Comunale. Ma non c'era il suo cinema, ma non c'era il suo rete. Il suo cinema però dovevamo iniziare l'oltre, ma abbiamo iniziato alle 9, va bene, ci sono state delle spiegazioni. Questi sono affari miei, comunque non c'è nessun problema. No, 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 impegni, il primo impegno è questo. Comunque, ho ascoltato attentamente le parole del segretario, ho capito bene la sua posizione, ho capito bene cosa intendete, io non so se forse c'è qualche paura di voler votare questa pratica, discutere o non discutere. Dopo che discutiamo possiamo discutere anche due giorni, perché se non si vota niente che cosa serve? Abbiamo discusso, siamo tutti molto bravi, ognuno ha detto la propria cosa. L'asilo è già stato dato in concessione a una cooperativa, e allora andiamo tutti a casa tranquilli, tra luce e vino. Questo, secondo me, non è l'atteggiamento giusto. L'indirizzo per l'affidamento di un servizio pubblico a una cooperativa o a un ente privato, l'indirizzo doveva essere passato in un museo comunale prima, prima, prima di fare giunta, prima di prendere queste decisioni. È una questione molto importante di una certa sensibilità, e sono sicuro che l'assessore questa sensibilità, ho avuto modo di riconoscerla, non gli manca. Però non è solo l'assessore, siete tutta l'amministrazione, ci sono tutti i consiglieri che sembra che abbiano paura a confrontarsi, non vogliono votare, non vogliono fare, non si capisce. Abbiamo fatto una riunione di capigruppo, ha detto però nessuna interpellanza, eh no, nessuna interpellanza, cavolo, però ce n'è una di cosa da discutere, c'è questa. Ma noi non abbiamo deciso tutti insieme così. Francesco, puoi intervenire dopo. Francesco, ma il consigliere Mauro, noi non abbiamo deciso, almeno io, non penso di essere Einstein, però l'italiano penso di parlarlo normale, abbiamo parlato tutti insieme, ma si sente anche se mi metto questo? Sì, sì. Abbiamo parlato tutti insieme, giusto? Presidente Cera, i miei chiedi di Cera, c'è verbale. Mi ricordo che avevamo parlato delle interpellanze che avevo presentato io e forse qualche altro consigliere. Mi raccomando, non si pari di quello, ci mancarebbe altro. No, mi raccomando, abbiamo deciso tutti insieme quando non si era parlato di mozioni e interpellanze di questo argomento qua. Non si era parlato di questa cosa qua. Consigliere Mauro, consigliere Mauro, consigliere Mauro, consigliere Mauro, quando il suo tempo interviene, non ha pazienza anche lei, scusi. Non si faccia sgridare dal Presidente, per piacere. Quindi, scherzi a parte, secondo me era... Non è scherzi a parte. No, non è scherzi a parte. C'è una maniera di fare le cose. Ci va bene, è perfetto. Bene. Io, è una maniera di fare le cose, c'è ragione il Presidente, grazie, fatemi finire. Stavo dicendo che era logico che si dovesse discutere. Io non rido per niente, io non rido per niente questa sera. Ma io neanche sto ridendo. Per nulla. Ma io non sto ridendo neanche per niente, sto cercando di un concetto. Infine, continuazione a tutti. Non so, posso finire o me ne vado? No, 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 prego. Allora, quindi, stavo dicendo che era logico, logicissimo, che si discutesse di questa roba qua e che magari si facesse una votazione, giusto per vedere anche l'indirizzo postumo alla delibera di giunta. Comunque, detto questo, non è stato fatto, pazienza. Io volevo chiedervi se avete preso in considerazione l'idea di fare una gara. non so se si fanno ancora le gare. Chiedo questa cosa qua e perché non è stata fatta. E poi vorrei soffermarmi su una cosa. Noi stiamo parlando qua questa sera di un servizio pubblico molto importante perché riguarda i bambini. Ok? Il capitale umano che ha questo comune, ovvero le tatte di cui abbiamo sentito tanto parlare sui giornali, sono un capitale umano, penso non indifferente, con un'esperienza, una professionalità che secondo me non è barattabile per 40.000 euro di risparmio all'anno come ho letto, perché io poi non so, siamo qua stasera, io ho letto sui giornali un risparmio per il comune, eccetera. Questa cosa per me non è barattabile. La professionalità e l'esperienza. Quindi, avessimo fatto un consiglio comunale prima di questa sera, prima della vostra delibera, avrei potuto dire anche questa cosa e magari avrei posto una riflessione anche in tutto il consiglio comunale. Lo dico adesso perché ne sono fortemente convinto. Quindi, abbiamo un grosso valore, pensiamoci ogni tanto. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa cosa lascia ma non sa cosa trova. Grazie. Grazie consigliere Sismondini. Altri interventi? Prego. Consigliere Balletto. Un attimo. Prego. Io sarò brevissimo perché visto che non ci fate votare direi che in una ipotetica votazione io avrei votato contro l'esternalizzazione del Nilo perché è un gioiello perché come ha detto il consigliere Gabriele c'è un capitale umano e un know-how che noi votiamo via. Sono quello e quello delle tate. Dunque se ci fosse stata la 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 non la discussione la votazione io avrei votato contro. Basta. Bene. Grazie. Consigliere Aleuzzi Prego. Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio nuovamente il Presidente per aver accolto la nostra richiesta di Consiglio Comunale straordinaria e urgente in tempi abbastanza brevi oltre ad augurare un buon compleanno ancora. Allora cosa dire su questa questione di cui ormai se ne parla da diversi giorni. Innanzitutto una cosa importante che vorrei ricordare non solo a voi ma anche a tutti i nostri concittadini è il fatto che il Nido Aquilone ha ottenuto la valutazione di eccellenza nel 2013 la certificazione di qualità nel 2016 ma anche il rilievo delle evidenze di qualità nel 2019. Naturalmente questo è un aspetto che noi non possiamo sottovalutare anzi bisogna tenere in considerazione e tutti i cittadini appunto devono averlo ben presente. Da questo aspetto partirai per dire che a mio avviso il fatto di decidere di esternalizzare un servizio così importante come appunto quello del servizio educativo di Unido Aquilone non può essere come diceva il consigliere Sismondini essere fatto tramite una semplice delibera di giunta. A mio avviso chiedo anche a chi più esperto di ma sicuramente mi saprà rispondere deve passare nel consiglio comunale non penso che un'occasione così importante vada fatta vada diciamo presa durante semplicemente una delibera di giunta. Altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che a mio avviso non solo come consigliere ma in questo caso vorrei anche parlare come mamma sapere che il personale cambierà solamente il giorno prima o pochi giorni prima dall'inizio diciamo dell'anno scolastico mi verrebbe un pochettino spiazzato perché le mamme così come il personale stesso che lavora all'interno del nido hanno saputo della notizia semplicemente pochi giorni prima aspettano ancora adesso un incontro con la parte politica perché hanno avuto un incontro solamente con i tecnici del comune ma non con la parte politica quindi né l'assessore né chi per essa ha partecipato a queste riunioni e quindi anche le mamme aspettano ancora un incontro ma anche i papà e non solo le mamme insomma i genitori e questo non è una cosa da sottovalutare ma non è ancora finita qui perché allora voi come dice il consigliere Deleo il 25 di agosto fate la delibera di giunta in seguito il 31 di agosto fate la determina e solamente il primo di settembre la cooperativa mette un annuncio su facebook un annuncio di ricerca del personale personale di cui voi parlate nella delibera personale altamente qualificato ci mancherebbe altro persone che devono assistere dei bambini devono diciamo accudire dei bambini in un'età così tenera quindi che va da 1 a 3 anni deve essere altamente qualificato sono d'accordo con voi forse non ha il modo migliore se dovessi cercare una babysitter per mia figlia che tra pochi giorni compirà un anno sinceramente non lo farai tramite un annuncio su facebook poi ognuno libera di procedere come crede inoltre un'altra cosa che forse non tutti sanno è che anche le associazioni sindacali hanno chiesto un incontro mi sembra il 31 di agosto appunto perché vogliono avere delle lucidazioni su queste decisioni che avete preso e sarei anche curiosa di sapere com'è andata questo incontro insieme con i sindacati che l'hanno richiesto il 31 di agosto forse non c'è stato evidentemente non c'è neanche stato vabbè nell'eventualità ci fosse stato vorrei sapere eventualmente com'è andato anche perché il capitale umano di cui stiamo parlando sono persone che hanno una formazione quindi che cosa andranno a fare queste persone è possibile saperlo cosa andranno a fare queste persone non sono delle pedine che possono essere spostate di qua o di là a vostro piacimento a mio avviso se io ho una formazione se ho studiato per fare un determinato lavoro credo sia giusto che io sono stata anche assunta per fare ho fatto un concorso perché queste persone hanno fatto un concorso se io domani adesso lavoro in ASL se dovessi essere spostata a fare fotocopio o comunque a fare una parte burocratica sinceramente mi sentirei un po' sminuita quindi a mio avviso è anche utile è giusto sapere queste persone che sono altamente qualificate grazie alle quali abbiamo ottenuto le eccellenze di cui vi parlavo all'inizio è giusto sapere che cosa andranno a fare perché le mamme se lo chiedono sono legate a queste persone perché se io affido un bambino di uno due o tre anni ad una persona mi fido molto di quella persona quindi anche questo vorrebbe avere una risposta mi dispiace non poter votare questa pratica quindi diciamo che la mia opinione è questa abbiamo raggiunto anche diverse firme in poche ore quindi vuol dire che questa tematica non interessa solamente le famiglie interessate in prima persona ma anche gran parte della popolazione e ritengo che questo sia un argomento molto molto delicato e utilizzare trattare un argomento in questa maniera penso che non sia proprio non sia stato proprio giusto soprattutto da parte di un'amministrazione che già in campagna elettorale parlava di coinvolgimento dei cittadini parlavate di open municipio mi sembra consigliere Palmero mi sembra che era lei il primo che diceva di coinvolgere i cittadini tramite questionari tramite domande su tematiche importanti ecco evidentemente la vostra sensibilità in questo caso è pari a zero perché di questionari non se ne è parlato non avete coinvolto le tate non avete coinvolto le mamme avete deciso e avete proceduto in questa maniera grazie grazie consigliere a 30 e 20 bene nessun intervento quindi l'escussione finisce qua consiglio assessore Rolfo prego prego buonasera si sente? si si allora come tutti sappiamo il comune di Ventimiglia ha due nidi due asili nidi uno è il girasole e quello che si trova a Roverino ed è quello i cui servizi sono già stati esternalizzati da tempo a una capienza di 33 bambini il secondo è l'idolo aquilone che è invece quello che è rimasto interamente comunale sotto la dirigenza psicopedagogica della dottoressa Fossati entrambi sono due eccellenze del nostro territorio entrambi sono accreditati dalla regione Liguria ed entrambi sono due eccellenze non ci sono in questo comune famiglie di serie A e famiglie di serie B entrambi cioè chiunque qualsiasi sia cittadino del nostro territorio ha diritto di avere il miglior servizio possibile questo sicuramente purtroppo amministrare vuol dire fare delle scelte giuste o sbagliate che siano io accetto le critiche che mi vengono fatte capisco sono mamma anch'io come tutti sanno io ho mandato tre anni mia figlia all'aquilone mi sono trovata benissimo è un luogo bellissimo è un luogo dove rimandare mia figlia domani quest'anno noi prima di riaprire il nido ricordiamo che ad esempio faccio un esempio Tagia non è riuscita a riaprire il nido proprio per i motivi e i problemi di covid che abbiamo avuto noi che abbiamo avuto quest'anno per cui insomma le scelte dovevano essere fatte forse sono state fatte tardivamente secondo voi forse non sono state comunicate nel modo corretto io so solo che mi sono trovata appunto una relazione a seguito di studi che sono stati fatti dai nostri tecnici che è arrivata circa il 10 agosto in cui erano contenute diciamo erano contenuti degli elementi che purtroppo ci hanno dovuto portare ad una scelta che è quella che poi è stata presa noi abbiamo al nido e alla culone sette educatrici avevamo sette educatrici di cui l'una ci ha detto c'era subito che non avrebbe incominciato di nuovo il primo settembre delle sei rimanenti tre hanno tra 56 e 60 anni e delle altre tre rimanenti due ci hanno già detto che probabilmente chiederanno trasferimento perché comunque sono fuori zona ci trovavamo pertanto anche a pensare che in un futuro comunque anche avessimo dovuto prendere qualcuno a tempo determinato per quest'anno non avremmo potuto dare una continuità ai nostri ai nostri bambini nell'ambito di quello che poteva essere il servizio pedagogico perché voi sapete quanto è importante l'asilo nido per i nostri bambini è importante dopo un periodo di lockdown in modo particolare perché ci siamo tenuti tutti quanti i bambini a casa e per quanto riguarda i bambini così piccoli è impossibile fare un quello che è diciamo un progetto a distanza tramite internet cioè i bambini non hanno la capacità di poter stare davanti a uno schermo e poter dare l'attenzione che è necessaria per seguire le eventuali maestre a distanza quindi questo tipo di progetto non era possibile anche se è stato fatto per quanto diciamo è stato un supporto soprattutto nei confronti dei genitori non tanto dei bambini quindi questa scelta è stata fatta è stata fatta in questo senso questo era l'unico modo con il quale noi potevamo garantire un servizio psicopedagogico vero essenziale continuativo che potesse partire effettivamente il primo settembre è stato effettuato ed è partito il nostro amico l'acquidone il primo settembre con l'affiancamento da parte delle tate per cui i bambini che erano presenti con le vere mamme hanno potuto continuare ad avere le tate che avevano precedentemente affiancate da quelle nuove e poi i tecnici diranno quanti sono e come sono come avviene questo tipo di ambientamento per cui non c'è stata nessun tipo di mamma dal momento in cui il servizio è iniziato capisco la pressione che c'è stata precedentemente nell'area libera voi leggerete che le tate dovranno essere impiegate nell'ambito dell'area socio-sanitaria questo è stato diciamo un elemento che si è venuto inserire proprio per far capire che le tate che hanno effettivamente un patrimonio di una formazione che è stata effettuata dall'università di Genova debba essere mantenuto per quanto diciamo possibile se essi loro sempre lo vorranno è stato elaborato un progetto che comunque adesso ha attenzione e sicuramente la dottoressa Donnelli potrà dirlo ancora meglio di me che riguarda un potenziamento di quello che è lo spazio 06 che è in oggi a 20 miglia alta non so se lo sapete sicuramente l'autore Saliluzido sa che quest'estate lo spazio 06 è stato utilizzato proprio per fare in modo di dare un supporto alle famiglie con fragilità soprattutto dopo questo periodo di difficoltà lo spazio 06 è stato utilizzato come meno nudo cioè praticamente le famiglie potevano stare tra l'altro un servizio gratuito 4 ore al mattino e 4 ore pomeriggio ci sono stati 18 gruppi di bambini piccoli gruppi che hanno potuto usufruire di questo servizio e che ha funzionato molto molto bene quello che si è pensato è di utilizzare le dettate per incrementare ancora di più questo tipo di servizio sia perché le mamme magari devono utilizzare il congiudio parentale sia per lo smart working o quant'altro quindi fare in modo che magari per poche ore perché non tutti hanno bisogno di un servizio all'infanzia per tutto il giorno ma magari soltanto per qualche ora allora se era pensato di uno spazio 06 con particolare riguardo ai bambini ai 3 a 6 anni uno spazio 2-3 per i bambini da 2-3 anni o uno spazio gioco anche quindi dove invece ci sia più spazio per la parte ludica questo è l'intento diciamo dell'amministrazione proprio per non far perdere quello che è il patrimonio che riguarda appunto la renta delle nostre tate spero di essere stata abbastanza esaltiva sono comunque a disposizione per qualsiasi domanda vorrei però dare la parola alla parte tecnica proprio la parte che riguarda la spesa in modo particolare ok bene un attimo allora dottor Prestileo guardo un po' se è giusto no è quello di fianco perché qui c'è distanziamento però aspetta un momento è qui per te per te si va bene si perfetto una sera dunque bene degli interventi fino ad adesso cerco anche di rispondere alle domande fatte dai consiglieri principalmente dalla consigliera le uzzi le uzzi perché degli altri due magari poi mi puntualizzerete meglio se devo tecnicamente rispondere perché non ho ben capito cosa mentre per quanto riguarda la consigliera le uzzi ho ben compreso tranquillizzo innanzitutto sulle procedure non c'era da fare nessun consiglio naturalmente prima questo è un atto gestionale puro non abbiamo esternalizzato nessun servizio nel senso che beh capisco che possa non essere tutti chiaro lo capisco dal punto di vista amministrativo però non abbiamo esternalizzato nessun servizio il servizio dell'Aquilone viene gestito dal comune di ventimiglia abbiamo come si suol dire fatto un appalto di servizi per quanto riguarda i servizi educativi le differenze consigliere mi scusi consigliere no no ma io capisco mi interrompo anche volentieri non c'è nessun problema sono qui apposta per dare delle risposte però siccome do delle risposte tecniche non le do risposte così come dire alla buona ecco le do risposte tecniche quindi e quindi rispondo poi anche alle uzzie sull'incontro con i sindacati eccetera non c'è stato trasferimento per dirlo in modo più facilmente comprensibile del personale comunale a soggetto terzo non c'è stato il trasferimento della tariffa a soggetto terzo quindi tecnicamente nessuno può dire il contrario o meglio si può dire ma non tecnicamente in modo valido è stato esternalizzato il servizio abbiamo ripeto sostanzialmente per farlo capire esteso l'appalto di servizio ai servizi educativi come è stato detto dall'assessore tra l'altro vuol dire è una proposta degli uffici proprio perché è un atto gestionale e cioè gli uffici dovevano una volta che l'amministrazione naturalmente ha richiesto che il servizio continuasse dovevano trovare una soluzione tecnica non c'è la politica in questo contesto per assicurare la continuità del servizio nel miglior modo possibile avete credo ormai compreso siamo al 17 di settembre l'asilo Nidolo Lapilone è iniziato il primo quindi come dire più che parlare la storia di quello che è successo dal primo ad oggi e vedrete presto i miglioramenti adesso magari ve lo preannuncio il servizio continua a essere gestito in modo assolutamente ottimo adesso che sia eccellente riconosciuto o meno di aspettare un altro anno magari otterremo delle eccellenze come era stato gestito in modo eccellente anche il servizio del girasole nelle critiche come dire così sollevate non vi era nessuna critica sul tipo di servizio quello esternalizzato dieci anni fa quindi le ad oggi noi abbiamo semplicemente assicurato proposto ed è stato accettato dalla giunta come uffici come unica soluzione e poi vi dico anche delle date unica soluzione possibile per mantenere il servizio e continuarlo abbiamo trovato l'unica soluzione percorribile che era quella di riuscire ad assicurare la presenza di tatte usiamo questo termine di tatte sufficienti per i bambini che entravano quest'anno all'asilo nido l'aquilone in uscita nell'anno precedente ed erano 18 bambini quindi 18 bambini avevano terminato l'anno precedente quest'anno rincominciavano noi abbiamo garantito e io dico naturalmente noi intendo naturalmente i sedizi psicopedagogici quindi dirigente Bonelli e soprattutto la dottoressa Cossati al quale credo nessuno possa negare la competenza la professionalità e la capacità abbiamo assicurato che quei 18 bambini rientrassero al nido all'aquilone trovando le proprie tatte le tatte sono e continuano ad essere dipendenti comunali sono e continuano ad essere impiegate nell'area socioeducativa non cambiano perché poi qualcuno diceva non c'è stato nessuno che ha strumentalizzato per carità sicuramente non c'era la volontà però diciamo che il messaggio è passato male e quindi si deve parlare di tatte che andavano ai sedizi demografici tatte che andavano da una parte tatte che andavano dall'altra le tatte sono e resteranno nell'area socioeducativa la relazione che ho aggiornata è che il 21 quindi dopo le elezioni diciamo terminate il 21 oltre i 18 bambini usciti e rientrati con le loro tatte si incrementerà la frequenza dell'asilo nido l'aquilone con nuovi bambini in lista d'attesa allora noi contiamo la dottoressa Fossati gli dice che a partire dal 21 settembre inizieranno gli ambientamenti di numero 18 19 bambini nuovi in affiancamento quindi oggi per esempio naturalmente varia da giorno a giorno perché come sapete in base ai servizi eccetera però oggi avevamo in servizio le 6 educatrici scusate il 15 oggi una in meno ma cambia di poco adesso poi vi dico anche questo comunque 6 educatrici comunali e 4 educatrici della cooperativa quindi avevamo 10 educatrici faccio un passetto indietro i tempi perché questi tempi veloci eccetera beh voi sapete naturalmente che abbiamo avuto un piccolo problema sanitario mondiale che è il covid e aspettavamo le linee guida ministeriali e a mio parere cambia poco che il governo l'abbia fatta in ritardo perché sia di sinistra a mio parere però sono arrivate in ritardo perché evidentemente non era facile emanarle quindi abbiamo dovuto capire quali erano i rapporti da rispettare tra naturalmente molti di voi ne sono ben a conoscenza meglio di me tra bambini e tate in base naturalmente all'età ai mesi cambia il rapporto e dovevamo sapere quanti bambini all'interno del nido a tirone potevano entrare cioè potevano frequentare e questo in base alle norme covid naturalmente con maggiori spazi per le distanze quindi dovevamo capire tutto questo non potevamo intervenire prima di sapere come intervenire da questo punto di vista quindi assolutamente servizio garantito capitale umano concordo con tutti quelli che l'hanno detto eccellente mantenuto e arriveremo l'obiettivo è quello di arrivare sempre norme covid consentendo quelle nuove a 42 bambini per il nido a tirone cioè la capienza massima riconosciuta dall'accreditamento regionale naturalmente ripeto norme covid garantite per quanto riguarda le forze sindacali le associazioni sindacali le associazioni sindacali hanno fatto una richiesta di incontro naturalmente sulla base di notizie che uscivano più che altro di natura giornalistica passaparola da bar eccetera non certo da nostra consultazione la norma non prevede e devono non prevedevano non prevedono e non prevederanno come dire confronti sindacali specifici perché perché le tappe rimangono dipendenti da comunale e continuano a svolgere le loro mansioni evidentemente le associazioni sindacali con le quali abbiamo già discusso non le posso dire come è andata perché l'incontro ancora non c'è stato era previsto poi c'è stata una sigla sindacale che non poteva adesso sarà la settimana prossima che non ricordo quando però diciamo che naturalmente ci siamo già sentiti hanno ben compreso che non c'era da fare nessuna concertazione non c'era da fare nessuna preventiva informativa perché non c'è nulla da informare tra virgolette prima abbiamo detto io sono sempre favorevole ben lieti di confrontarci con le forze sindacali che rappresentano i lavoratori e quindi le incontreremo comunque ma per parlare magari di orari questo sì dell'asilo nido come voi sapete c'è il problema della programmazione c'è il problema di sapere quanti mesi quanti settimane lavorano quando prendono i servizi quali sono i turni gli orari ma tutte cose normali diciamo non perché noi abbiamo fatto questo o quell'altro quindi ad oggi le norme sono state tutte assolutamente rispettate nessuna necessità di indirizzo preventivo del consiglio comunale il consiglio comunale naturalmente sempre benvenga che si esprima per quanto mi riguarda naturalmente siete le persone che rappresentano i cittadini di 20.000 però gli atti gestionali degli uffici sono atti gestionali degli uffici c'è proprio questa netta separazione tra l'atto di indirizzo politico e l'atto gestionale quindi abbiamo esercitato come dovevamo e devo dire per fare i complimenti non a me certo che non c'entro niente ma agli uffici quindi dottoressa Bonelli dottoressa Fossati Tappe ma anche la parte amministrativa abbiamo dimostrato ad oggi che tutti i bambini hanno avuto assistenza e ho avuto un'assistenza non credo che nessuno anche di voi abbia mai sentito una lamentera che poi ci può stare per carità però su come è stato gestito il servizio naturalmente adesso è stato già detto dall'assessore concludo il tutto questa nuova impostazione nasceva e nasce nata dal fatto che il numero delle tappe dipendenti comunali che tali rimarranno con tali mansioni per essere anche impiegate in nuove servizi sempre di natura equivalente quindi è stato fatto l'esempio di Spazio 06 ma anche nuovi progetti che sono in corso Spazio E2 e 3 insomma ed altri erano in numero non sufficiente per garantire l'apertura cioè se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto oggi giustamente voi sareste venuti qua a chiedere un consiglio comunale per dire perché l'asilo non è stato aperto perché accogliete solo 10 bambini e non 20 perché non avete fatto questo giustamente noi abbiamo fatto tutto quello che andava fatto come ufficio grazie 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 interventi Sismondini domande io ho fatto una domanda ben precisa il motivo per cui non si è fatta una gara per i tempi da quello che ho capito perché grazie scusi che non ho capito si vede qui risponde la Bonelli l'ho visto ma ho fatto qui bene dottoressa Bonelli c'è un attimo un attimo prego si mi sposto scusate va bene finalmente ho l'occasione di salutarvi e di parlare in consiglio comunale e perché non una gara non una gara perché era difficile farla ma non per i tempi perché quando io vado a costruire un capitolato d'appalto devo sapere molto bene o di concessione o quant'altro devo sapere che cosa chiedo alla ditta che poi mi farà un'offerta difficile saperlo come ha detto il dottor Prestileo le linee guida sono uscite tardissimo quindi io non potevo sapere che numero di bambini quale poteva essere il costo bambino qual'era la capienza del nido e quindi non avrei potuto dirlo ad un potenziale partecipante questa è stata la grossa la grossa motivazione della non gara e la grossa motivazione anche rispetto al ritardo che abbiamo avuto bene grazie grazie altri interventi io curano prego consiglio di curano vale faccio presente presidente che non funziona lo streaming da lo sappiamo lo sappiamo tutto a tempo allora i tecnici sono a lavoro aspetta un attimo lo puntualizzo i tecnici sono a lavoro stanno registrando tutto l'uomo e la mattina verrà caricato tutto il discorso è questo semplicemente a mio avviso che qua si continuano a dare delle scuse per ogni atto che viene assunto da questa giunta non c'è mai una volontà politica vi nascondete dietro tutto e questo è l'ennesimo caso questo è l'ennesimo caso poi oltretutto sento parlare l'assessore scusate quattro minuti il dottor prestigio è un quarto d'ora io voglio una risposta politica la decisione è stata vostra perché nessuna delibera di giunta c'è richiamo alla relazione degli uffici l'avete deciso voi di vostra sponte perché la volontà politica è questa e mi dispiace io non credo neppure al discorso che mancavano le educatrici perché voi non scoprite oggi la mancanza dell'educatrice avete avuto 15 mesi eventualmente per andare a rivedere quello che poteva essere il piano triennale delle assunzioni non l'avete fatto potevate limitarvi a esternalizzare servizi integrativi peraltro sia nella delibera che nella determinazione c'è un punto secondo me che è interessante l'unico interessante che è quello di dire abbiamo bisogno di servizi agili per chi fa smart working chi fa part time eccetera potevate fare quel tipo di discorso lì non è stato neppure preso in considerazione ma la cosa più grave in assoluto è il solito modus operandi di questa amministrazione quella per cui una volta non si discutono i consigli comunali perché non si vota un'altra volta non si vota perché non vi piace come il tipo di votazione e lo stesso trattamento non è nei confronti solo nostri è nei confronti dei genitori di questa città degli educatori di questa città degli insegnanti di questa città ma è possibile che voi non abbiate avuto neppure il coraggio di convocare 5, 6, 7 educatrici per dire guardate che da domani non lo leggerai sul giornale probabilmente abbiamo queste necessità e dobbiamo fare questo passaggio non l'avete fatto con i genitori non l'avete fatto qui non ci sono bambini o famiglie di serie A o serie B assolutamente perché il servizio che viene dato dall'altra parte è un servizio altamente qualitativo ma noi in casa abbiamo un'eccellenza perché in questi anni le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno investito sugli educatori che hanno fatto corsi con l'università per anni e noi questi educatori diciamo guardate da domani voi non ci servite più perché arriva qualcuno là fuori bravo come voi la differenza è valoriale tra il pubblico che si impegna e investe e il pubblico che si disimpegna questa è la differenza valoriale che c'è all'interno di questa manovra che avete fatto e la modalità celandovi dietro una settimana di azioni già programmate perché scusatemi il 25 ce la delibera il 28 risponde già la cooperativa e qualche giorno dopo ci già la determina ma tu 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 era un po' e come dice qualcuno nella vostra maggioranza è da giugno che se ne parla quindi voi avete tenuto tutto nascosto del genitore alle famiglie ci avete presentato il piatto pronto questo è il vostro modo di operare in tutto in tutto è così lo è stato con la Dima lo è stato con lo Zacari lo è stato dappertutto fate così poi se maltrattate la minoranza non frega niente a nessuno ma quando di mezzo poi ci vanno le famiglie e il personale secondo me questo è grave questa è la cosa più grave che avete fatto avevamo e abbiamo delle ottime professionalità non gli avete ancora detto dove andranno a finire non ve ne siete premurati li incontro con questi sindacati non si sa quando ci sarà o non si sa neanche che cosa gli andrete che cosa gli andrete a dire questo è il vostro normale agire questo è il vostro normale agire cioè voi fate così non ve ne frega niente degli altri decidete punto e le risposte ma sì ma poi va bene non si fa così almeno il rispetto delle persone che ci lavorano ci vuole visto che il servizio al girassolo è un servizio di qualità probabilmente se aveste organizzato non so degli incontri tra i genitori per dire guarda che confrontati il servizio è ottimo se aveste dato delle rassicurazioni a chi ci lavora dentro se li aveste incontrati beh probabilmente le reazioni sarebbero state diverse invece no voi fate così partite di prepotenza punto e basta sulla questione del lato amministrativo voglio dire sull'affidamento ormai col covid sotto i 150 mila euro potete fare cosa volete quindi sul fatto che non ci fosse la necessità di un passaggio in consiglio comunale noi in questo abbiamo mandato oggi una lettera alla dirigente all'ottoressa Bonelli per chiedere che ci venga illustrato il motivo per cui è stata sufficiente una delibera di giunta e non di consiglio questo andremo a vedere guardate io non ho molto altro da dire voi state esternalizzando una storia un'identità un approccio che ha avuto questo nido questo nido si distingue per la condivisione questo nido è cresciuto in questi anni ed è in cima alle graduatorie liguri perché c'è sempre stato un percorso di condivisione tra i genitori chi ci lavorava educatrici chi ha fatto e costruiva il percorso educativo c'è sempre stato un percorso e voi di punto in bianco avete tradito questa storia non c'è altro da dire voi siete così degli altri non vi interessa molto chiudete porto in faccia a tutti e via oggi esternalizzate un servizio secondo me che è fondamentale prossimamente toccherà non so al cuoco e via discorrendo e questo è il vostro risultato voi abbandonate vi disimpegnate rispetto a una storia che ha caratterizzato in modo eccellente la nostra città in questi anni ma d'altronde se non sbaglio qualcuno che è qua dentro era già l'artefice dell'esternalizzazione completa del del girasolio è vero? perfetto vi ringrazio grazie consigliere abbiamo altri interventi? un altro allora signor signor prego no no scusi prego consigliere prego consigliere no 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 prego il fine che parla la fine prego consigliere no perché ovviamente se c'era da far intervenire il sindaco non avrei chiesto certo la parola prima no ma io brevemente anche per completare un po' un ragionamento che ho già avuto modo di poterlo inserire nell'atto della presentazione ascolti consigliere ascolti consigliere mi scusi? adesso io la faccio consigliere non capisco la faccio intervenire di nuovo ma lei ha già parlato eh signor Presidente allora in altre occasioni ci siamo capiti stasera una cosa particolare stasera lei ha già parlato nel regolamento del nostro comune c'è scritto che si presentano le mozioni oppure la richiesta del consiglio comunale stasera viene esposta la richiesta da parte di un consigliere da parte di uno dei firmatari e poi incomincia il dibattito e tutti hanno diritto a dibattito ma lei ha già parlato signor Presidente io le ho dato ma proprio convintamente le ho fatte le mie congratulazioni per come si è comportato in questo consiglio comunale no non me la sono goduta nemmeno un quarto d'ora questa cosa mi devo rimangere tutto allora io intervengo perché ho presentato la richiesta del consiglio comunale consiglio di Mauro e consiglierebbe bevi l'acqua non vi scandalizzate ma è così no io dicevo dicevo che sul fatto che il dottor Pestileo non abbia capito bene le domande che sono state fatte da questi banchi non mi aspettavo stasera da lei un giudizio non mi aspettavo da lei l'esame alle domande si risponde alle domande che si ritiene opportuno rispondere ha ritenuto rispondere a certe domande e quindi ma vede noi abbiamo capito che da tutto quello che lei ha detto sotto l'aspetto professionale ovviamente non si discute ma però poi qui noi facciamo politica facciamo amministrazione sentiamo i genitori e il nostro obbligo è del nostro sentire i genitori e sono obblighi che lei non tanto ha certi obblighi lei li può lasciare anche da parte perché non gli competono e la parte tecnica è a disposizione di questa amministrazione sente l'amministrazione che individua gli indirizzi e lei in modo anche a volte impeccabile anche bene perché insomma non le discute certo le sue capacità però assolutamente non metta questo non metta questo vede chiama in causa la determina del dirigenziale della dottoressa dottoressa va bene che lei parli in consiglio comunale è contenta che venga a parlare in consiglio comunale ancora di più sono contento io nel vederla lì a relazionare e non è una cosa che viene così diciamo però è che la gara era difficile farla e non si fa mi deve rispondere cosa vuol dire magari mi risponderà il dio smacchina della situazione cosa vuol dire la gara è difficile e non si fa non mi basta come risposta non so la domanda ma la risposta la risposta non mi basta e non mi basta nemmeno sentir dire che le linee guida del governo che sono un po' tutte le giustificazioni che abbiamo sentito in questi giorni per televisione anche a livelli più alti in regione governo le linee guida che non arrivano ma io mi ha colpito di più mi ha colpito di più in termini positivi e sentendo le notizie nei vari quotidiani nei vari giornali e per televisione sentire leggere sapere apprendere che in certe zone dove le linee guida non sono arrivati gli addetti ai lavori gli addetti ai lavori di quelle zone hanno provveduto mettendosi in prima fila e il problema semmai non era quello del partire o no il problema il problema il problema il problema non stiamo a capire che bravi che siete ma che bravi che siete ma che bravi si può fare speculazione sui bambini oppure sui consiglieri comunali di minoranza che bravi che siete comunque fatemi finire perché giustamente il tempo non posso apprendere il tempo degli altri ma non basta non è e questa è una buffonata perché possono agire buffonati io una volta qui ho detto a una persona di questo di questo consiglio comunale di non fare giullare perché non è che quando arrivano le problematiche basta buttarle sullo scherzo per poi la goliardia a volte fa ridere ma a volte poi fa anche male stasera avete detto con quei sorrisini e con quel modo di interrompere i consiglieri che discutono non ho fatto una gran bella figura però questo non vuol dire questo non vuol dire non sono io che metti i voti a lei bene il personale era sotto organico gliela vada a raccontare a chiunque vuole lei non me la racconti a me e nemmeno a questi banchi della minoranza lei sapeva da quando è stato e quando si è messo in quella poltrona un anno e mezzo sapeva che sarebbe arrivata la scadenza covid a parte covid a parte sapeva già che sarebbe arrivata questa scadenza sapeva già che le mancava del personale l'assessore ci ha spiegato molto bene quanti sono le tate che avevano in pensione quelle che chiedono il tutto esperimento tutte cose che si sapevano da un anno e mezzo come avete fatto per altri settori del nostro comune geometri struttori vari concorsi eccetera potrevate benissimo girare sulla sigolide non l'avete fatto non l'avete fatto non è un reato ma non siete stati bravi all'altezza ma prima quello che potete qui mi pare che aveva ragione appunto il consigliere bevi l'acqua e questo consigliere con il tuo consiglio comunale sarebbe stato forse più opportuno non farlo perché visto che gli aveva tanto fastidio l'avevo detto due volte nella conferenza dei capigruppo quindi voi lo diceva anche Enrico Gliocurano prima voi avete questo modo di gestire e di portare avanti le discussioni non ci fate tanto male assolutamente no non ci fate male siamo preparati a fare opposizione e la faremo fino in fondo saremo sempre comunque attenti a quello che deve la parte della cittadinanza e rappresenteremo gli interessi dei nostri concittadini nelle sede appropiate che è il consiglio comunale dove voi ovviamente tutte le volte continuate con questo vostro modo di fare ma è un modo di fare e noi dobbiamo accettarlo bene grazie grazie calma calma assessore assessore calma signor Findeco prego prego eh siamo in campagna elettorale siamo in campagna elettorale buonasera a tutti innanzitutto e grazie anche ai sei consiglieri di opposizione che hanno ritenuto a non davvero a farci venire qui questa sera con vero piacere per parlare di una pratica che come diceva giustamente il consigliere De Leo questa è la sede per discutere purtroppo molte volte la sede per discutere si trasforma in questo e con questo si dicono anche delle imprecisioni nella stragrande numero di casi c'è sempre una grande imprecisione o quantomeno una politica sbagliata io capisco che siamo in campagna elettorale in questi ultimi venti giorni si è detto di tutto e di più sia per quanto riguarda il nido pseudo privato che per quanto riguarda altre cose ma questa sera parliamo del nido l'aquilone perché devo dare delle risposte a questo punto non tecniche che non mi competono perché io ho i tecnici a cui io mi rivolgo e non sono a volte impeccabili noi riteniamo che sono sempre impeccabili a cui noi abbiamo dato massima fiducia e non ci hanno mai mai fatto prendere delle decisioni al momento e speriamo che continui così sbagliate anche perché sono tecnici collaudati che hanno gestito che ci hanno aiutato ad amministrare questa città dal 2007 al 2012 quindi collaudati come diceva il consigliere Balestra che ha ritenuto di avere altre cose più importanti una professionalità che non è barattabile quella dei nostri tecnici non è barattabile anche questa come non è barattabile la professionalità dell'altro personale con cui adesso andrò a dire il consigliere Deleu come lei ha visto nelle varie risposte se che è stato contento siamo stati esaustivi nelle risposte noi non abbiamo preso delle decisioni nottetempo abbiamo preso delle decisioni maggioranza e di giunta la parte tecnica ci ha esposto delle problematiche e non aspettare mezzanotte l'una o le due di notte abbiamo preso la decisione quando c'era il sole non nottetempo abbiamo preso con la consapevolezza che dovevamo dare una risposta puntuale a quelle che erano le richieste pressanti che si venivano dai genitori che sono in lista d'attesa 60 domande 62 domande che chiedono di poter entrare negli asili nido a cui fino a qualche tempo fa la risposta era solo di 12 o di 14 noi abbiamo preso questa decisione perché abbiamo voluto rendersi conto che l'età delle nostre etate che abbiamo votato con tutto il rispetto è un'età che va avanti ci siamo resi conto che due non sono quasi hanno intenzione di trasferirsi vicino a casa ci sono qualcun altro che va in coescenza quindi va in pensione e quindi abbiamo preso delle decisioni consapevole di poter dare una risposta ora io mi domando il dottor analizzato un nido che era il girasole sono stato io sono consapevole di averlo fatto e devo dire che a luce c'è anche lei a luce di quello che è successo e come viene gestito il girasole e con le professionalità che ci sono all'interno del girasole e il numero di bambini che il girasole riesce a ospitare devo dire che il consiglio comunale da allora compreso lei abbiamo fatto un ottimo lavoro abbiamo fatto un ottimo lavoro perché quando lei parla di eccellenze dei nostri nidi vi voglio ricordare che le eccellenze sono due Aquilone e il girasole non perché uno ha più personale comunale e superiore all'eccellenza se lei guarda e io le pregherei di farsi portare la relazione fatta da una professionista che noi abbiamo la fortuna di avere una professionista non c'è nessuna variazione tra la professionalità di un nido né dell'altro entrambi hanno ricevuto il plauso di tutti dei genitori e delle istituzioni e delle istituzioni questo è il nostro programma un programma a cui noi ci atteniamo scrupolosamente vogliamo dare una risposta puntuale a quelle che sono le esigenze di dare un'opportunità ai bambini delle famiglie che devono andare a lavorare è impensabile che si abbia un nido dove poter ospitare 12 bambini quando la capienza è 42 44 siccome lei sa che il rapporto tra le tate delle pericoltrici è 1 a 5 c'è bisogno di personale ma non personale io che prendo mio nipote in braccio è personale qualificato abbiamo visto che la cooperativa che gestisce il girasole è personale qualificato l'ufficio ha ritenuto che quel personale potesse continuare ad avere la nostra fiducia e l'abbiamo fatto consigliere perché è lei che mi rivolgo lei la parola giullare l'ha detta anche questa sera quando lei nella volta scorsa picchiava le scarpe sopra alla scrivania io non gli ho detto che lei è un giullare io ho detto che lei portava avanti la sua linea politica che non era la mia non mi sono mai permesso di offenderla personalmente quando lei gridava che questa amministrazione era un'amministrazione che doveva andare a casa e ripeto e sbatteva le scarpe sopra la scrivania io non mi sono mai permesso di offenderla lei la parola giullare le chiedo di non dirla più in questa sede sa perché? non perché mi offende ma perché offende anche la sua intelligenza e la sua capacità politica lei si attenga scompolosamente a quelle che è le prorogative di un consigliere comunale sia esso di maggioranza che di minoranza non accettiamo nessuna offesa personale accettiamo sicuramente una contestazione in termini su quello che noi andiamo a fare perché giustamente c'è una maggioranza che amministra è una posizione che deve controllare e stimolare io l'ho fatta la minoranza qui dentro l'ho fatta ma non mi sono mai permesso di offendere il dottor Berlingero poi l'ho battuto ma non mi sono mai permesso di entrare nel personale mai io non so se farò ancora politica tra cinque anni tra quattro anni ma comunque vada io continuerò a portare avanti il mio impegno politico con correttezza ascoltando tutti poi prendendo delle decisioni perché un fatto è certo noi decidiamo questo voler attaccare in modo improprio un mio assessore capace attenta disponibile sul pezzo offendendo in alcuni questi che è l'assessore Riorfo questo è inaccettabile io parlo in senso generale perché l'assessore Riorfo è portatrice di istanze degli uffici dell'atto gestionale ma se c'è una responsabilità qualora ci fosse è dell'intera giunta è la mia per primo voi dovete attaccare il sindaco io sono pronto a rispondervi dell'intera giunta e del sindaco l'assessore Riorfo ha fatto la sua parte tra l'altro anche con vera preoccupazione vi assicuro con vera apprezzione e quindi un minimo di rispetto per il suo lavoro io ritengo che sia giusto riservarglielo volevo rispondere anche al consigliere premetto che prima di continuare volevo finire con lei consigliere Deleu perché mi è dispiaciuto questo piccolo dibattito iniziale sul votare o non votare io non so quello che vi siete detti nella riunione dei capi gruppo però noi abbiamo un presidente del consiglio che ogni volta ogni volta puntualizza che lui è super parte e lo sta facendo molto bene questo lavoro e quindi se avete deciso di non portare delle emozioni di fatto lei ha una grande esperienza che ha fatto il consiglio che ha fatto il presidente del consiglio come l'ho fatto io quando si portano delle pratiche fatte in un certo modo e ci sono dei risultati di un certo modo qui non c'è nessuna paura di votare a favore o contro quando il mio amico il consigliere Balestra dice io voterei no ma io lo capisco è mai legittimo io voto sì e lui vota no in democrazia è così poi mi è escluso che qualcuno della mia maggioranza magari è preoccupato di questo quindi qui è è la casa di tutti dove in democrazia si esprime il proprio dissenso o il proprio consenso però bisogna avere le pratiche fatte bene bisogna avere una delibera bisogna avere il parere degli uffici non c'è nessuna paura di votare in questa assise noi siamo pronti a confrontarvi sia per quanto riguarda i banchi della maggioranza che vi assicuro che c'è un continuo confronto un continuo confronto ecco come quello della minoranza quindi il consigliere Simondino c'è e quindi non risponde è andato via alla dottoressa Luzzi devo dire che ha già risposto tecnicamente il dottor Prestileo come vede a volte non solo a volte è impeccabile lo ripeto è sempre impeccabile nella risposta tecnica la politica poi ci siamo noi sono i miei colleghi consiglieri voglio dirvi di questa decisione e forse mi ripeto è dovuta al fatto delle moltissime richieste di inserimento moltissime richieste di inserimento noi nei prossimi giorni come ha detto il dottor Prestileo andremo ad accontentare ben 18 famiglie oltre a quelle che ci sono ulteriori 18 e prevediamo di arrivare a 42 inserimenti naturalmente con l'apporto di nuovo personale qualificato perché sappiate che tutto il personale non è che lo gestisco io e gli dico io quello che deve fare noi abbiamo l'ottoressa Fossati che è una bravissima insieme alla sua dirigente Monica Bonnelli che è qua che sicuramente farà la sua parte per poter inserire queste nuove pericoltrici e mettere in condizione i nostri bambini i vostri bambini a essere assistiti nel migliore dei modi concludo io Giuliano giustamente mi ha lasciato un santino adesso vedo ci penso ci penso però sicuramente non posso rispondere perché è andato via volevo solo dirle ma questo lo dico anche a voi perché in effetti poi dirlo a voi vuol dire a tutta la minoranza è vero noi l'unica prerogativa che andiamo è che siamo fieri di portarla avanti e che noi decidiamo questo sì perché possiamo discutere come diceva lei a volte nelle segrete stanze che non sono segrete possiamo discutere possiamo essere anche contrari su qualche pratica magari ci rivediamo due o tre volte e quindi quando abbiamo preso una decisione noi decidiamo non torniamo indietro sia chiaro con la cosa che siamo qua dal mattino alla sera per cercare di fare il bene della città di Ventimiglia e devo dire che ci stiamo anche riuscendo abbiamo perso quattro mesi col covid ma io mi auguro di poterli recuperare quindi io vi ringrazio enormemente tutti per avermi ascoltato sappiate che anche per il futuro noi non ci nascondiamo dietro il non voto o il non confronto noi siamo qui perché giustamente ognuno ha la sua la sua funzione qui dentro quello di governare e quella di controllare e contestare governare e controllare e contestare apro solo una parentesi io voglio ringraziare Alternativa Antemi l'ammesso che sia lei o qualcuno che è per quel lavoro che avete fatto per quanto riguarda la discarica dell'olio questo è collaborazione e io la ringrazio la ringrazio a nome di tutta la maggioranza concludo io non ho altro a dire buona serata speriamo che non arriviamo a che denuncia ecco grazie signor sindaco bene allora esaurito questo punto io dopo un po' di dibattito sono anche se vi posso dire scusate consigliere le ursi se deve andare vada pure io sono anche un po' dispiaciuto no? perché sulla fissazione di questa data c'è stato parecchio da dire e ora che questa sera un consigliere che mi ha chiesto la presenza del pubblico se è andato via e un altro che ha detto bisogna farlo tassativamente del 21 sono andato via anche lui a me sinceramente mi lascia un po' come dire con l'agro in bocca ok? perché poi dico stasera è mio complanno io sono qua e se sapevo così facciamo diversamente ok? bene grazie allora adesso visto che prima di aver iniziato subito con la discussione della della questione di asili passiamo al punto che era il punto 1 cioè la lettura e la proporzione verbale dell'ultimo consiglio del 27 luglio 2020 quindi metto in votazione questa pratica favorevoli tutti favorevoli tutti favorevoli ok bene ok a posto bene poi abbiamo il punto 3 la ratifica della delibera di giunta comunale numero 135 del 23 luglio 2020 bilancio di previsione 2020 2022 variazione numero 8 adottato in via d'urgenza dalla giunta comunale qualcuno vuole intervenire? va bene grazie quindi proprio votazione favorevoli la ratifica e la delibera di giunta contrari astenuti 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 momento astenuti 3 ok vai ok mediate eseguitività sì allora votiamo l'immediata eseguitività della pratica favorevoli contrari astenuti niente allora la verità poi pratica numero 4 ratifica la delibera di giunta comunale numero 168 del 25 agosto 2020 bilancio di previsione 2020 22 variazione numero 9 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale qualcuno vuole intervenire su questa pratica? buone votazione favorevoli contrari astenuti astenuti 3 votiamo l'immediata eseguitività della pratica favorevoli tutti favorevoli bene poi l'ultima pratica pratica numero 5 documento unico di programmazione DUP 2021-2023 qualcuno vuole intervenire su questa pratica? nessuno bene punti di votazione favorevoli contrari sono qui sono qui 3 contrari astenuti niente bene così è finita grazie no immediata eseguitività favorevoli bene per chi si vuole fermare ho portato due pasticcini e una bottiglia di vino ok grazie anche una bottiglia certo grazie